eccoci qua pronti per l'assaggio del mio riso all'insalata pieno pieno piatto unico mi raccomando Marta ci sei? Tutto a posto? Alza sempre la testa ecco qua allora io metterei un altro filetto d'olio eh nonna che dite lo metto un altro filetto d'olio? Si ci sta ci sta un altro filetto eh lo metto aspettate che la decorazione la tolgo non avete guardato la decorazione? Si ho visto brava brava è bravissima Paola mi asuce la mia loggia e Marta si e Marta dite tutti i bacca guardate voi siete tutti i bacca un poco di pepe pure lo posso mettere due e tre basta qua chi lo vuole se lo mette nel piatto giriamo bene bene e impiattiamo wow ti ho una bella faccia però eh? Bellissimo pieno pieno nonno ci ho messo un po' di roba dentro poi quando andate a casa vi vedete il video vedete tutte le quantità che ho messo in abbondanza in abbondanza ecco qua guardate che belle ecco qua allora poi faccio i piatti e poi faccio le aspettate eccoci qua i piatti sono stati fatti a me piace con un po' di maionese Marta tu la maionese la vuoi? eh? Marta vuoi la maionese? si ok allora per chi volesse sapere la ricetta di questo riso semplicissimo qualche video fa qualche video fa c'è la ricetta ok ti è Martucci ti è? Fatemi sapere com'è eh? Nonna voi la maionese la volete? aspetta Marti che è tutto vediamo mmm buono bello saporito buonissimo buonissimo pieno pieno gustoso eccezionale brava Paola e vai e vai e vai raga buon appetito e arrivederci Marta saluta ciao ragazzi bello saporito bello saporito bello saporito bello saporito